salve a tutti amici sono paolo fiat e oggi vi voglio far vedere una cosa che ho ovviamente costruito qui adesso non anche se non vedete a me non importa allora qui cosa ho fatto adesso ancora tutto quanto comunque ferma così perché la stiamo andando a lavorare stiamo andando a sto andando ancora a finirla di fare tutto quanto praticamente sto facendo una serra una serra diciamo un semenzaio possiamo chiamarlo molto semplice adesso c'è ancora tutto quanto da finire di fare ho preso questa struttura di legno qui che sono andato a sistemare praticamente è creata con delle assi del bancale sotto sotto ci sono tutti assi di bancali con del cartone e una lamiera sopra quindi fanno da isolamento che sotto non entra il freddo poi dopo comunque faccio vedere bene qua telecamera poi ho praticamente messo questi tre cosi qua questi tre assi qua di legno che fanno il contorno e poi ci ho messo ovviamente li ho fissate quindi praticamente ho creato la struttura e tutto lo scheletro e poi ci ho messo questo telo sopra questo telo sopra è un telo garantito cinque anni in agricoltura ovviamente garantito cinque anni alle gente atmosferici quindi sole pioggia vento caldo tutto quello che ci va quindi estate inverno garantito cinque anni costa un pochettino comunque per dirvi la verità per fare questa serra qui così manteniamo anche i costi vi faccio dividere con i costi praticamente ho preso un telo che era largo due metri e venti e ne ho preso due metri e cinquanta di lunghezza quindi due metri e venti larghezza due metri e cinquanta di lunghezza ho pagato cinque euro questo telo più poi ovviamente come spese potremmo dire così poi come spese in più possiamo mettere le viti che ovviamente tutte viti di recupero che ho a casa i listelli e tutto il legname non lo conto perché tutta roba di bancale recuperata tagliata da bancali che andavano buttati via quindi ho recuperato le asse migliori poi sotto vabbè un cartone che ovviamente voi potete usare potete usare un pannello di legno se avete tipo compensato lo mettete io ho usato un legno ho usato scusate un cartone sotto e sopra ciò ho appoggiato una lamiera che ho verniciato ovviamente una lamiera che gli ho dato una passata con la bomboletta perché era un po' vecchia era una lamiera di recupero questo è un comunque una cosa molto di recupero ecco dura quello che dura e l'ho fatto così ecco perché avevo già la struttura che l'ho usata d'inverno in estate ho usato questo banco qui per appoggiare le piantine e adesso ho detto perché non usarla anche d'inverno quindi sto andando a fare questa modifica allora la cosa da dire ovviamente il tele è stato fissato dietro con due listelli di bancale poi è stato tirato sopra è stato fissato con altri listelli di bancale qua poi è stato fissato qui in fondo vedete è stato fissato qua è stato fissato qua diciamo con è stato fissato qua diciamo questo tele è stato fissato qui con dei listelli qui è stato fissato con un listello questo qui è un listello di recupero comunque potete mettere una tavoletta di bancale quello che volete che comunque ovviamente questo non so se sarà fisso l'ho messo probabilmente così e poi qui davanti ovviamente il telo rimane libero non perché sia libero ma perché devo ancora riuscire a finire il lavoro e capire come fare qui nel laterale qui ovviamente ho fissato tutto quanto sempre con delle tavolette di bancale sono andato a fissare il tutto e qui mi rimane questa parte qua che andrà ovviamente tagliata andrà sistemata, andrà fatto bene il tutto dopodiché ovviamente da questa parte qua ho fatto l'uguale che di qua ho fatto più o meno uguale ovviamente le misure non sono precise però uno si va dietro, fa il taglio del telo mette il listelletto di legno, mette le sue viti ferma tutto quanto quindi ovviamente sono delle cose molto provvisorie possiamo dire così diciamo così, sono delle cose molto provvisorie che però comunque funzionano adesso prendo in mano la telecamera senza dilungarmi troppo ovviamente è una struttura che è molto molto classica molto base qui ci va messo un altro listelletto di legno anche qui ovviamente devo capire come fare l'apertura davanti comunque adesso prendo la telecamera vi faccio un'inquadratura scusate, togliamo lo zoom prendiamo la telecamera scusate allora così vi faccio vedere proprio velocemente allora struttura molto semplice è stata tutta quanta con bancali di recupero vedete qui i bancali a volte erano anche un po' marcetti ma comunque non crea problemi anche se hanno ovviamente un po' marci bancali perché ovviamente è tutto di recupero ovviamente questo è stato fatto qui un listello un altro listello qui per coprire il telo mentre il telo è venuto giù qua qui è stato fatto il taglio vedete qui è stato fatto il taglio qui così dalla parte dietro ovviamente è stato fatto il taglio qui è stato fissato bene qui sopra è stato fissato con dei listelli di legno il telo qui qui è stato diciamo fatto in questa maniera qui poi qui è stato fissato ancora quindi la mia tecnica quale è stata adesso la faccio vedere da questa parte di qua la mia tecnica qui quale è stata allora la mia tecnica qui è stata prima l'ho fissato prima l'ho fissato qui il telo l'ho fissato qui poi ho tirato bene il telo qui e l'ho fissato qui sotto vedete l'ho fissato qui sotto e qui sotto e sotto l'altra che c'è una tavoletta di legno qui c'è una tavoletta di legno poi ho tagliato l'eccedenza del telo in più e dopo una volta l'ho tirato bene bene giù di qua ho fissato qua una volta fatto questo lavoro qui cosa succese sono andato a fare i laterali poi vedete che ho tagliato il telo ho tagliato prima quello che arrivava da dietro qui vedete prima ho tagliato il telo che arrivava da dietro qui e l'ho messo fino qua poi ho preso il telo del laterale qua e l'ho appoggiato sopra e ho messo questa tavoletta di legno qui anche qui ho messo un'altra tavoletta ecco quindi ho fatto un lavoro molto ho fatto un lavoro diciamo molto semplice ma comunque veramente funzionale ecco e diciamo che comunque funziona questa semplice adesso vi faccio vedere un pochettino il telo comunque all'interno all'interno ho avviato questa piccola verniciata perché era veramente marcia dalla mira ma comunque giusto per proteggerla dall'acqua delle nostre piantine se praticamente va dei liquidi percolati diciamo delle nostre piantine quando andiamo a bagnare e niente di tutto questo cosa ho fatto ancora altro niente ho fatto praticamente beh qua avete visto la stessa cosa che ho fatto di là qui ci ho messo questo qui ovviamente non so penso che sia provvitorio comunque poi nel caso si può mettere anche dei travetti così li mettiamo qui e poi ci ho fatto questo questo era un legno che ovviamente era già imbarcato la fortuna mia voleva che era già imbarcato così quando praticamente piove l'acqua scivola via qua ovviamente dopo qua si fa da canale scuola via oppure scuola via qua ecco poi comunque scuola via diciamo che se ne va via molto molto bene l'acqua ecco questo è un pochettino il quanto il telo è un telo di quelli bofrost bo non so se pregavi bene il nome comunque c'era comunque quelli con la scritta nera durano molto durano tanto sono teloni da serra professionali e praticamente sono andato a scegliere questo rispetto a quelli che che sono garantiti un anno perché comunque mi sembra strano mi sembra diciamo stupido tra virgolette diciamo senza offendere nessuno usare quelli che che valgono un anno che poi ci tocca buttarli via oppure mai iniziano a frantumarsi in giro quindi abbiamo tutto il plastica in giro ecco utilizzo questo che mi dura garantito 5 anni diciamo però anche se mi durasse 3-4 anni sono molto più che soddisfatto ecco poi non è una cosa fissa che durerà sempre questa questa è una cosa diciamo che in poche parole ho fatto e diciamo che durerà quello che durerà magari magari ci sia prima il legno rispetto che il telo vedremo stiamo a vedere ecco comunque questo è molto semplice non ho utilizzato niente come costi vi ho detto 5 euro del telo più potremmo mettere il legno ovviamente tutto di recupero dei bancali possiamo mettere un'altra 3-4 euro di viti che ho usato ovviamente ho usato delle viti da legno classiche normalissime viti da legno ho usato anche queste qua vedete queste qui sono viti un po' più particolari da trucciato della diciamo con la testa torse ma diciamo che sono tutte le viti di recupero che ho in giro ecco ho fatto questa struttura molto semplice vedete molto semplice questo qui un piede e poi qua sopra c'è il coso e poi un traverso diritto per tenere tutto insieme ecco era ovviamente questa era una cosa molto semplice che ho fatto io niente spero che questo che questo video vi sia stato utile interessante magari per prendere qualche spunto ovviamente io non voglio insegnarvi niente voglio farvi vedere quello che faccio io questo l'ho fatta per mettere le piantine all'interno all'interno qui metterò piantine metterò cose che seminerò dell'orto e niente per questo video è tutto spero di esservi stato utile se faccio vedere bene la sarra così è una sarra comunque di un metro e ottanta di lunghezza ecco di larghezza scusate larghezza così e niente ecco di profondità quello vuoi che saranno 50-60 centimetri niente dopo le fiete è tutto niente spero di essere stato utile e vi ho dato quel consiglio ci vediamo al prossimo video ciao a tutti amici ciao